Musica Terminati i lavori strutturali allo stadio comunale Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni. Quest'oggi la visita al campo sportivo del governatore della Campania Vincenzo De Luca, il quale ha effettuato il sopralluogo accompagnato dal primo cittadino Vincenzo Servalli. Gli interventi allo stadio, ricordiamo, sono stati resi possibili grazie ai fondi distribuiti dall'Agenzia regionale Universiadi e dei 970 mila euro messi a disposizione sono stati aggiudicati e spesi lavori per circa 450 mila euro che hanno interessato il consolidamento strutturale e l'adeguamento di tutto il blocco degli spogliatoi con un nuovo tunnel di accesso al campo, nuovi bagni, una nuova sala stampa, impianto di aria condizionata, abbattimento delle barriere architettoniche, arredi per tutti i locali, copertura wifi per gli ambienti e nuove panchine, porte e bandierine per il rettangolo di gioco. Inoltre l'amministrazione Servalli ha stanziato negli anni oltre 600 mila euro per gli adiguamenti strutturali delle curve, i lavori dei distinti, il potenziamento della videosorveglianza con 30 telecamere, l'impianto antincendio, nuove uscite di sicurezza, tornelli e recinzioni. Richiesto al credito sportivo un nuovo finanziamento di oltre un milione di euro per l'installazione delle nuove torri Faro e per i sediolini, come imposto dalla Lega per la partecipazione al campionato di Serie C. I lavori strutturali sono finiti, abbiamo ritenuto di coinvolgere il programma di ristrutturazione degli impianti dell'università di Simonetta Lamberti, un stadio molto bello, funzionale in area urbana e come sa il sindaco abbiamo fatto un lavoro di consolidamento strutturale, avevamo situazioni veramente di pericolosità. Vi farei vedere qualche immagine. Noi avevamo questa situazione per la parte strutturale, in cemento armato, quindi veramente una situazione incredibile anche dal punto di vista della staticità. E oggi abbiamo una situazione che è completamente rinnovata, come potete vedere. Abbiamo rifatto lo stadio interno, il blocco con gli spogliatoi, servizi igienici, aria condizionata, una sala per la stampa, si è fatto un tunnel per il collegamento diretto nel campo delle squadre. Credo veramente un bellissimo lavoro per il Simonetta Lamberti. Bellissimo intervento, credo che fosse necessario per lo stadio. Siamo veramente orgogliosi perché dovete tener conto che noi abbiamo fatto per l'università di in 10 mesi 70 impianti, a cominciare dallo stadio San Paolo per un importo di 23 milioni di euro. In Italia di questi tempi è un miracolo, è tutto con la collaborazione dell'autorità anticorruzione del dottor Cantone, quindi in un contesto di assoluta trasparenza, veramente un lavoro in mane che ci auguriamo possa dare respiro e slancio a tutta l'economia della regione, all'economia di Napoli, all'immagine dell'Italia nel mondo. Ed infine il governatore De Luca ha annunciato la firma del decreto per un ulteriore milione di euro destinato al miglioramento della viabilità intorno al campo sportivo. Siamo molto contenti, Simonetta Lamberti ha una certa età e aveva bisogno di un restyling importante, innanzitutto di carattere strutturale. Grazie all'università abbiamo potuto fare un intervento che con le risorse comunali difficilmente saremo stati in grado di fare, c'è un altro milione di euro che la regione Campania ci dà per la sistemazione della strada intorno a Simonetta Lamberti, insomma sono veramente molto contento di poter realizzare interventi di cui avevamo necessità e bisogno. A Napoli e in Campania le grosse ristrutturazioni degli impianti avvengono solo in occasione delle grosse manifestazioni. L'ultima volta è stata nel 1963 con i giochi del Mediterraneo che ha visto la nascita dei tanti impianti sportivi. Da allora l'impiantistica sportiva ha subito dei rallentamenti. Adesso con le universie di la regione, che ringraziamo sempre, ha investito enormemente e resterà, tra i tanti patrimoni di questi universi e di quello resterà anche questo degli impianti ristrutturati. Il problema dopo sarà fare in modo che questi impianti non subiscano lo storico destino degli altri impianti di poca manutenzione, ma qui a Cava c'è sicuramente la classe politica cittadina che conosco bene, saprà sicuramente mantenere l'inefficienza di impianto e impedirne il suo degrado.